Sartoriale 9 per lui, che inizio del capitano Sta pagando Ancora Radori, trova lui mettendosi il proprio E ha ragione Picarotto con la nara Attacca da Nicolaou, va bene da Radori Che finita il giro, ballegge il resto Tiro, perfetto In questa aggressiva di Roberts Attacca Pietro, si ferma runner Mamma mia, viene da Radori Grazie